Pagina sportiva, ben trovati, nuovo banco di prova importante per il Perugia che domani pomeriggio alle 14.30 sarà impegnato sul campo del Novara in trasferta prima di un'altra trasferta, quella di domenica prossima sul campo di Lumezzane, poi gara interna contro l'Arezzo. Saranno tre partite che probabilmente faranno capire a quale campionato potrà ambire il Perugia di Giovanni Pagliari, reduce dalla vittoria di domenica scorsa con il Pergocrema e quarto con 17 punti a quattro lunghezze dal Novara secondo dietro alla Cremonese. Dalle prossime tre gare il Perugia in silenzio stanta si attende maggiori indicazioni su quelli che potranno essere i propri obiettivi. Per quanto riguarda la formazione e chi andrà in campo domani all'inizio Pagliari che è squalificato e sarà quindi costretto a seguire la gara dalla tribuna ha già scelto in pratica l'undici da mandare in campo. L'unico dubbio è legato al reparto d'attacco vista la buona prova offerta mercoledì a Via Reggi in Coppa Italia da Ercolano e Delcore in alternativa a Paponi e Martini. Dall'inizio potrebbero partire Paponi e Martini o Delcore ma anche Ercolano scalpita e non è escluso che Pagliari possa compiere scelte clamorose proprio nell'immediata vigilia del match dando una maglia da titolare per la prima volta in campionato proprio a Sergio Ercolano apparso in grande forma. Comunque la formazione del Perugia non verrà toccata nel modulo e in gran parte negli uomini la vediamo un 4-4-2 con Benassi, Trepali in difesa, Zoppetti, Accursi, Raimondi e Bonomi. A centro campo Benassi e Perra sono i due mediani con Stamilla e Bondi ai lati davanti tutto è possibile ma Paponi e Delcore partano in lieve vantaggio su Ercolano e Martini. Vi ricordo che la partita sarà trasmessa in telecronaca differita domani sera alle 23 su Umbria TV. Grazie a tutti.